Per rendendoci cura della pelle dall'interno, riveliamo la seducente luminosità che si nasconde sotto la sua superficie. True Vivity by Nutrilite è un sistema di integratori alimentari che, abbinato ai trattamenti di bellezza quotidiani, dona una pelle radiosa agendo dall'interno. True Vivity si avvale dell'esperienza di Nutrilite e di Artistry. Una collaborazione straordinaria che rivoluziona il mondo dei trattamenti della pelle per un'armonia tra bellezza, natura e scienza. True Vivity by Nutrilite è un sistema innovativo che esercita la propria azione dall'interno. Le compresse, ricche di vitamina C, agiscono durante la notte, aiutando a risvegliarsi freschi e rivitalizzati. Le bustine, ricche di zinco e vitamina C, offrono alla pelle una carica di freschezza durante la giornata. Il complesso brevettato Phyto-Infuse è un'esclusiva combinazione di bacche di goji, rosa canina ed estratto di semi d'uva. Questi ingredienti, dalle proprietà antiossidanti, compongono una formula estremamente efficace. Contiene anche il complesso fitoceramide, una formula innovativa brevettata a base di ceramidi del grano. True Vivity by Nutrilite. La vera bellezza comincia dall'interno.